Sono accusati anche di un tentato omicidio Francesco Piovalda ed Emanuella Prea, due dei giovani che in questi giorni sono in tribunale per l'omicidio di Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo adolescente, ucciso a colpi d'arma da fuoco l'anno scorso mentre si trovava fuori uno degli chalet a Mergellina. Valda e Aprea, secondo quanto emerso, sarebbero infatti stati complici nel tentato omicidio di Ciro Marigliano, avvenuto il 16 febbraio 2023, a pochissimi giorni dalla notte della scomparsa del giovane Maimone, colpito da un proiettile vagante esploso da Valda nel corso di una lite per una scarpa sporcata, alterco al quale Maimone era completamente straneo. Intercettato mentre raccontava l'accaduto al telefono, Valda è accusato di aver esploso diversi colpi di pistola contro l'auto di Marigliano, mentre quest'ultimo si dileguava dal fuoco nemico nel corso di una sparatoria. L'indagine sul tentato omicidio di Marigliano si inserisce in una più vasta operazione che ha portato nel tempo all'arresto dei fratelli della nonna di Valda, oltre che di altre sette persone per reati che vanno dall'associazione mafiosa al traffico di droga.